Grazie Presidente, ma intervengo su questo articolo 5, come dire, sollecitato in qualche modo dalle riflessioni, dalle osservazioni che ho appena ascoltato sia dal collega Larussa che dal collega Longo, che purtroppo mi paiono infarcite di inesattezze rispetto al tema dell'identificazione del minore straniero non accompagnato. Vi è una copiosa letteratura scientifica e anche una copiosa giurisprudenza ormai in materia di identificazione dei minori stranieri e bisogna riconoscere con obiettività che questa norma, all'interno di questo provvedimento più generale, contiene dei significativi passi in avanti, in particolare finalmente adegua la nostra legislazione a principi fondamentali, io oserei dire laicamente sacri, previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia del 1991. Non ci deve stupire che in sede di accertamento dell'età anagrafica il minore debba essere, come dire, sostenuto, aiutato dalla presenza di un mediatore culturale. È un principio di civiltà assolutamente positivo, così come è assolutamente necessario assicurare il diritto effettivo di partecipazione da parte del tutore, se nominato, dei genitori se individuati, delle persone che si occupano del minore, anche delle associazioni che assicurano la tutela dei minori. Un aspetto particolarmente significativo è il fatto che l'esame sociosanitario diventa l'extrema razio a seguito di accertamenti meno invasivi e più rispettosi della personalità del minore, quali sono appunto il colloquio approfondito, le verifiche sulla documentazione anagrafica a disposizione, eccetera. Dobbiamo realisticamente prendere atto del fatto che fino ad oggi lo strumento principale di accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato è stato il cosiddetto esame oxologico, cioè l'esame del polso, dello sviluppo scheletrico, ed è un esame assolutamente fallace. Non lo dico io, che sono un avvocato immigrazionista, una persona di sinistra che crede in particolare i valori di rispetto della persona umana e in particolare dei diritti dei bambini. Lo dicono i medici stessi, lo dice il mondo scientifico, che è un esame approssimativo, tant'è vero che è riconosciuto scientificamente un margine di errore di più o meno due anni. Quindi un minore che un medico attesti avere un'età presunta di 18 anni potrebbe averne 16 o 17, se accerta che ne ha 19 potrebbe averne 17 o 20. È un esame approssimativo, non sicuro, perché a seconda dei diversi Paesi anche lo sviluppo scheletrico ha una diversa evoluzione. Quindi trovo assolutamente positivo, arriva in ritardo questa norma, ma finalmente arriva a rendere più corretto l'accertamento e più rispettoso della dignità del minore. Quindi non vedo come questo aspetto assolutamente positivo possa essere così bellamente travisato dall'opposizione di centrodestra con argomentazioni fallaci sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo scientifico.